Rischio caos al mercato settimanale del sabato di Barletta, causa nuove disposizioni comunali che da oggi costringerebbero i venditori ambulanti a dislocare tutti i mezzi utilizzati, compresi gli automarket, al di fuori dell'area mercatale, quindi lontani dalle postazioni di lavoro. Un provvedimento che la Polizia Municipale sarà costretta a far rispettare, che ovviamente non è stata gradita dai principali protagonisti, a farsi portavoce del loro unanime malcontento le associazioni di categoria BAT Commercio 2010, CNA e un'impresa BAT che in un comunicato a firma anche del rappresentante anziano del mercato barlettano, sottolineano i disagi che ne deriverebbero, che si spingerebbero fino all'impossibilità di poter operare senza l'ausilio degli automezzi che fungono anche da deposito e in molti casi da macchine e negozio. L'argomento era stato oggetto di trattazione già nel dicembre scorso, in quel contesto un'impresa BAT e CNA BAT Commercio avevano richiesto la convocazione del tavolo di concertazione con tutte le sigle sindacali e la presenza anche dei responsabili della squadra non aria del Comune di Berletta per analizzare pro e contro della disposizione, incontro che però non ha avuto luogo e di conseguenza le preoccupazioni degli ambulanti si sono fatte sempre più pressanti. Già da sabato scorso è partito l'allarme lanciato dagli operatori in seguito alla rigida e inflessibile direttiva degli addetti al controllo del mercato, secondo i quali già da oggi tutti i mezzi utilizzati dagli ambulanti, compresi gli automarket, non potrebbero più restare all'interno dell'area mercatale. Una novità per nulla gradita. Sono 17 anni, infatti, sottolineano gli ambulanti che gli automezzi vengono posizionati sui posteggi così come tracciati. Spostare, l'amministrazione che sta dicendo di spostare i furgoni, il problema qual è? Noi operatori, chi ha tutti i automezzi e automarket, i furgoni chiedono per questi furti che ci sono, che andiamo a lasciare, il furgone ha un chilometro, 800, 700 metri, chi ce li guarda? O si fa un'area adebita a parcheggio con uno che guarda i furgoni, ok ci stiamo, ma gli operatori non possono smondare che hanno tutti gli automarket per una giornata, per quattro ore al giorno. Nessuno viene incontro a noi che stiamo soffrendo la crisi, nello Stato ci massacra. Chiunque, dai comuni allo Stato, l'unica sorgente per prendere i soldi sono gli ambulanti. Invece di aiutarci ci vengono a massacrare. Complimenti alle amministrazioni, qualsiasi amministrazione che sia, sia di destra, di sinistra e di centro. Togli il furgone, perché? La legge dice che se c'è l'automarket, apri con l'automarket, punto. Per evitare malumori di sorta e trovare di concerto una soluzione che risponda da un lato ai criteri di sicurezza imposti dall'amministrazione comunale e dall'altra alle esigenze degli ambulanti, le associazioni di categoria sollecita un gran voce, un tavolo di lavoro da cui maturi una scelta definitiva e soprattutto condivisibile da entrambe le parti.